una tecnologia nuova che serve anche a mostrare ciò che non sarebbe visibile a vedere il passato a parlare anche di futuro assolutamente si è anche ad avvicinare un pubblico che all'arte alla storia oggi non si avvicina perché i linguaggi non sono adeguati art glass è una soluzione ed è un modo di raccontare la cultura e l'arte con contenuti unici presentati in maniera unica grazie alla sfida della tecnologia che molto spesso è una sfida vinta in questo caso è una sfida vinta grazie a un mix di software intelligenza artificiale e competenza editoriale e grazie anche alla collaborazione di molti siti culturali che hanno contenuti straordinari parliamo di contenuti digitali non solo di contenuti fisici da valorizzare si realizza una narrazione che ti consente di entrare dentro un monumento di esplorare cose che normalmente non potresti esplorare e anche di capire di inquadrare un bene culturale un sito un paesaggio un momento del territorio in un contesto vedendolo in maniera immersiva questa è la nuova frontiera delle tecnologie indossabili immersive che ci consentono di fruire in maniera nuova e di esplorare e di avvicinarci alla cultura